Paolo rimanda, una volta battezzato Onesimo, rimanda il suo padrone e gli dice guarda che io da apostolo portai in porti quello che tu dovresti fare. E quello che tu dovresti fare non lo dice Paolo, ma è talmente ovvio, che perché è stato battezzato non può più essere schiamo. Ecco la dimensione sociale di Paolo. Quando Paolo nei Galati scrive che in Cristo Gesù non c'è più né barbaro, né giudeo, né greco, né uomo, né donna, né schiavo, né libero. Lo intende veramente perché per Paolo il battesimo vuol dire un salto di qualità sociale. Cioè il battesimo rende immediatamente, e quindi glielo dice a Filemone, guarda che l'unica cosa che puoi fare è liberarlo questo schiavo. Le devo far capire una lettera bellissima, cortissima, poche righe, ma di una bellezza. Poi scrive questa lettera ai comunità che noi abbiamo mai pensato che fosse in crisi. Ma era in crisi anche la comunità di Filippi. Perché? Perché provate a pensare un attimo. Sapete che cosa vuol dire fare scelte come dovevano farle le prime comunità cristiane? tagliando con l'ambiente, rifiutandosi di partecipare a determinate associazioni, non partecipare. Capite subito che se voi fate il pane, per esempio, e avete un po' di famiglie che vi comprono il pane solo per la vostra sussistenza, basta che qualcuno abbia un sospetto che voi immediatamente perdete clienti. Sembra che la comunità di Filippi stia veramente soffrendo economicamente. Paolo scrive a loro, a chi ha qualcosa di più nella comunità, a imparare a condividere quello che ha, perché tutti possano vivere. Sembra essere questo il cuore della lettera ai fagliari. E notate che mentre fa queste due lettere, lui poi viene liberato e la comunità di Corinto è ancora in pasticci. Allora decide di andare lui stesso a Corinti. Ci va attraverso la terra, prenderà la via Ignazia, poi viene giù verso Corinto. Lungo la strada, verrà incontrato Tito, che gli porta buone notizie, e scrive la seconda lettera ai Corinti. È una bellissima lettera. Notate, arriva a Corinto facilmente nel 57, tardo 57, si riconcilia con la comunità e lì nella primavera del 58 scrive quello che è il suo capolavoro, la lettera ai Romani, che non è una lettera dogmatica, per favore, è una lettera pastorale. Scrive a questa comunità, lui non ha mai fondato Roma. La comunità cristiana di Roma è nata attraverso commercianti ebrei che hanno portato la fede nel Messia, morto ma risorto a Roma. Notate, questo adesso è importante capire. Paolo, guardate che i Romani è l'ultima lettera che Paolo scrive. Ed è il suo testamento. È un testo, guardate, Romani, di una densità, ma non è una lettera dogmatica. Sta scrivendo a una comunità che si è spaccata a Roma, fra i forti e i deboli. E cos'è che dice? Bisogna capirlo, Paolo, ed è importante anche per noi, noi pensiamo di avere problemi. Provate a pensare a quest'uomo, che è arrivato a Corinti e ha inventato questa straordinaria esperienza della raccolta di fondi per la comunità di Gerusalemme. Perché? Di nuovo la logica economica. Paolo dice le comunità che io ho fondato stanno un po' meglio della comunità di Gerusalemme. chiedo a voi tutte le comunità, quel più che avete, di metterlo da parte, io, con due delegati per ogni comunità che portano i soldi, non vogliono sapere di soldi, dice Paolo, e andiamo a Gerusalemme. Paolo sta preparandosi al viaggio a Gerusalemme. Cos'è la situazione? Lui sa che quel viaggio finirà male, lo sente già, e di fatti andrà a finire male. Facilmente Paolo sarà tradito e consegnato ai Romani, a Gerusalemme. Ma notate la cosa grave che cos'è. Paolo sa due cose fondamentali. È angosciato al massimo, Paolo. Sa che la sua gente, il suo popolo, il popolo ebraico, sta preparandosi alla guerra. 58 mancano solo 8 anni allo scoppio della guerra civile. C'è rivoluzione ovunque, nella Giudea, nella Samaria. Paolo ha paura che davvero scoppi questa guerra e che Roma scrive ai Romani e sa che a Roma ci sono comunità che provengono, alcune chiese domestiche provenienti dal giudeismo, altre provenienti fatte da Grecci e da Romani. I Romani ce l'hanno già morte con gli ebrei. E quello che vogliono è schiacciare questi ebrei. Paolo scrive, la lettera ai Romani può essere tradotta così. Dio è il Dio del crocefisso. È il Dio dei crocefissi. È il Dio che abbatto l'orgoglio ebraico. Noi siamo il popolo eletto e gli altri sono porci. Sono popoli non eletti, diciamole. E notate, questo è il e i Romani che dicono faremo vedere noi a questi ebrei che continuano la ribelli, schiaccieremo così. E questo è il testamento di Paolo, la lettera ai Romani, che è un grido. Se voi vi leggete il testo del capitolo 8 quando conclude né fame, né sete, né spada, nulla ci potrà separare dall'amore di Dio. È il grido incredibile di Paolo in una situazione, guardate, io non so quel Paolo come ha fatto a vivere, come ha vissuto, è quel suo grido di fiducia che Dio è più grande di quel momento così difficile che sta vivendo. Ecco un po', e lui poi andrà a Gerusalemme, verrà tradito, andrà a Roma e come sia finito a Roma non lo sappiamo, può darsi che sia stato spazzato via anche lui dalla persecuzione neroniana. Ricordiamo che girava la voce a Roma nel 64 che Nerone aveva appiccicato il fuoco a Roma e per disfarsi di questa diceria butta la colpa sulla setta cristiana, prenderà i cristiani e li avvolgerà in pelli e li userà per illuminare i giardini vaticani molto facilmente. Paolo finirà così in mezzo agli altri cristiani di Roma vittima capite bene di che cosa. Questo è Paolo. Capite che razza di missionario è? Che razza di capacità ha avuto di leggere l'impero e di capire e di offrire alternative e allora permettetemi di dire ma allora cos'è che ne viene fuori da questo? Prima di tutto una cosa fondamentale in Paolo è la proclamazione che lui fa di Dio guardate che per Paolo Dio non è altro che il Dio della vita per Paolo potremmo quasi dire che Dio non può far altro che dare vita Dio è il Dio prima di tutto di tutti i popoli non è solo il Dio degli ebrei nel bellissimo testo ai romani forse Dio è Dio soltanto dei giudei? No lo è anche dei pagani? Certo anche dei pagani poiché non c'è che un solo Dio il quale giustificherà per la fede i circoncisi e per mezzo della fede anche i non circoncisi è il Dio di tutti i popoli e tutti i popoli sono popoli eletti per Dio Israele doveva servire per Paolo solo come esempio di come vivere per per quasi spingere gli altri popoli a vivere in una via chiamiamola bella e sapienziale che porta alla vita secondo Dio per Paolo è sempre il Dio dei crocefissi non solo del crocefisso di Gesù ma di tutti i crocefissi guardate che lo capite allora perché Paolo contesta la comunità di Corinti quando gli dice ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono dice l'annuncio della solidarietà compassionevole di Dio con il popolo crocefisso la proclamazione secondo le parole di Martin Luther King le bellissime parole di King è bello ripetere in un momento così difficile come questo the universe is bent on justice l'universo è come se fosse curvo verso la giustizia e forse ne stiamo cominciando a imparare qualcosa in questi giorni perché sta spuntando il nuovo dice la proclamazione non è più realistica oggi e oggi la pressione a costostruirle con il realismo della teologia imperiale è quasi irresistibile cioè l'annuncio della solidarietà compassionevoli di Dio verso i crocefissi oggi la riprendiamo invece con un'altra teologia la teologia imperiale tuttavia con la grazia di Dio uomini e donne continuano a vivere nella forza della risurrezione anche nel regno della morte nascosti nello splendore dell'attuare impero mondiale e a sfidare le altisonante minacce di morte confidando in un Dio che dà la vita ai morti ecco Paolo e capite perché Paolo ha sfidato l'impero e ha pagato alla fine per questo è la sfida è stato uno scontro oggi lo comprendiamo questo sempre di più quindi notate poi l'altra cosa incredibile per Dio in Paolo lo trovate in tutti i testi di Paolo questo Dio che praticamente si si svuota ed è un concetto importante non è soltanto Gesù che si svuota Gesù che era nella forma di Dio notate si svuotò prese la forma di uomo poi la forma di schiavo il crocefisso notate questo svuotarsi svuotarsi e poi questo ritorno al padre notate una cosa importante la domanda che dobbiamo porci questo svuotarsi è solo di Gesù in Paolo oppure esprime qualcosa di più esprime il concetto di un Dio che si svuota noi oggi lo rendiamo nel Dio di Levinas per esempio impotente noi l'abbiamo sempre concepito come l'ondipotente e se invece Dio creandoci liberi non fa forse proprio questo lui non può violare la nostra libertà è come una mamma che dà la vita a dei figli tutti sani ne può partorire uno malato sapete che vuol dire per una mamma vedersi un bimbo fra le braccia potete vedere la tenerezza di una donna quando si vede un bimbo morire fra le braccia notate questa forse la tenerezza che ha Dio con noi ma è l'impotenza di Dio proprio perché ci ha permesso di essere liberi è un Dio che si svuota che è clemenza che è compassione in questa in questa bellissimo direi oggi riflessione che facciamo anche sul creato diventa fondamentale questa presenza misteriosa debole diremmo noi è molto presente in Paolo proprio perché Dio è il Dio dei crocifissi è il Dio del crocifisso ma che dà vita e che non fa altro seconda cosa fondamentale Paolo è un appassionato di Gesù di Nazareth ma anche qui per favore la mia preghiera è guardate che oggi c'è una ricerca sul Gesù storico straordinaria Paolo non ha mai incontrato il Gesù storico ha conosciuto il risorto ma è un tale appassionato di Paolo pensate di Gesù la parola in Cristo e Gesù appare 160 volte nel lettere Paolo è un mistico di Gesù che ritraduce nella sua vita la stessa esperienza di Gesù nel contesto romano Gesù è stato fatto fuori dal Tempio e da Roma perché visto come sobbillatore contro l'impero Paolo replica nella sua vita la stessa lo stesso giudizio su Roma che vede in Paolo un elemento sovversivo e lo vuole far fuori e allora capite come diventa importante questo ritorno al Gesù storico al Gesù che ha fatto le sue scelte in quella Galilea ritraducendolo poi in questo nostro oggi non è questione di fare archeologia è questione del vivere nell'oggi con una passione come Paolo ha vissuto e in questo non lo possiamo fare semplicemente annunciandolo dobbiamo fare come Paolo facendo comunità alternative all'impero noi viviamo oggi dentro un impero che altro che impero romano mai impero è stato così vittorioso così potente così universale come l'impero del denaro oggi mai nessun impero mai così suadente non ha neanche bisogno della polizia guardate la società dei consumi come come ci prendono dentro come ci capite questo è l'impero entro cui noi oggi viviamo un impero che permette a pochi di papparsi quasi tutti un miliardo su sette può papparsi l'83% delle risorse di questo mondo per continuare a vivere così abbiamo bisogno di armi spaventose a vivere così